Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono AmmastessiTor6 E oggi siamo tornati su PERS 2020 Per continuare la serie della Champions League con il Milan Oggi abbiamo una partita molto importante e anche molto molto ma molto difficile Perché oggi ben si giochiamo contro il Benfica, guardate lì Hanno più 80 di noi, no In realtà ha più 80 al Milan, però non è che sia una squadra scarsa Il Benfica Direi ragazzi dopo la partita di ieri di mettere subito Daniele Maldini così che non si sa mai che è uguale E direi di tenere così le formazioni perché stanno tutti bene tranne Morini e anche Antonio Donnarumma Il fratello di Donnarumma che viene pagato di un milione e non fa mai niente E neanche in Coppa Italia, quindi ragazzi direi di iniziare Col caso inizio di Benfica Milan Ragazzi oggi giochiamo nello stadio del Benfica che non so quale sia Voi che siete di... Di Lisbona No Benfica dovrebbe No lo Sporting è di Lisbona Voi che mi metta Benfica sapete dove Come si chiama il vostro stadio Adesso comparirà No mi mette ancora misterio Vabbè dai Comunque iniziamo Giardel Ferro Tiziano Giardel Pizzi in faccio Feiza Ante Rebici Attenzione subito Christophe Piotek Daniele Maldini Attenzione perde pala Attenzione Stilal Pronto a rinviare Verso Rol de Thomas Ma Calabria ci mette la testa Christophe Piotek Dovigo l'inferiorità numerica Ante Rebici Sì non ce la faccio parlare di Sire Benfica L'inferiorità numerica Ante Rebici Quasi Riesce a segnare che poi erano L'inferiorità numerica Perché eravamo 4 contro 3 Ma comunque andiamo avanti ragazzi Svilar Rinvia Anzi no La passa Tiziano Ferro Feiza Tarat Romagnolo a prestare attenzione Calabria Frank che sì C'è la Novium ma che sì È troppa fretta C'è la Novium ma per manco Giard Raffa del Silva Pizzi Quindi c'è la Flazina Laude Thomas Theo Hernandez Attenzione la passa indietro Ante Rebici Christophe Piotek È partito il Dini Daniele Maldini Attenzione Daniele Maldini Daniele Maldini Attenzione il tiro Non è Non è Ander Rebici Nei prezzi di Zikovic Zikovic Benassero Attenzione Christophe Piotek Maddo Piotek buttato giù Non c'è niente Secondo la Deppertini Eravamo usati Nei prezzi Feiza Romagnoli Su Tarant Zikovic Romagnoli Gigio Donnarumma Attenzione Se la fanno mettere su Non so sapere Ante Rebici Ismael Benassero Non è partito Piotek È partito invece Daniele Maldini Che la ripassa E su Christophe Piotek Che la tira Ante Rebici Attenzione no Cosa? Falli in attacco Per il Benfica Mamma mia Cazione del Milan E si vede che Rebici Commette fallo Perché altrimenti Avrebbe tirato E avrebbe fatto gol Svilar Da ribia Hakan Canoglu Da Debbia Verso Pizzi Zikovic E lo serva A intercettarlo Mamma mia Con l'ormato Ante Rebici Piotek Attenzione È partito Daniele Maldini Contro il piede Di Maldini Attenzione Siamo quasi Fini al primo tempo Frank Cassini Pessi di Raffo Silva Pizzi Cialanoglu Attenzione Christophe Piotek Quasi l'antacetta Giardel Romagnoli Alessio Il capitano Il capitano Piotek È partito Daniele Maldini Attenzione La ripassa Piotek Deviata Piotek Ancora Franchesi Ancora Daniele Maldini Credo sia Daniele Maldini Piotek Piotek Che idea Google No Google Sei piccolo Comunque 0-0 Tra Benfica E AC Milan Secondo tempo Controllerei un attimo La formazione Quindi non c'è nessuno No scuso Lo metto di là Dopo ragazzi Mi sto skipirò Maldini Credo Anzi no Tolgo Suso E metto Cioè Tolgo Ciano E metto Suso Anzi ragazzi Non ce la faccio Quella Entra Suso Quella che ha fatto il gran calcio Di punizione Contro La Spal Piotek Benassero Piotek ancora Suso Primo tocco di palla Ancora Suso Sul passaggio di Piotek Trafasilo Perferro Hanno messo Marcatura stretta Su Piotek Ma la centrositare Djigovic Tarant Teo Hernandez Su Tarant E con questa palla Teo Hernandez Attenzione Che caro armato Lo sposta Piotek Mamma mia Ferro Grimaldo Adesso Ciaro Ferro Djigovic Benassero Su Djigovic Niente Tarant Raul De Tomas Matteo Musacchio Io scontro tra argentini Credo che Raul De Tomas sia argentino Ma lo so Non l'ho mai sentito Sto qui Piotek ancora Daniele Madini Lo vedo Di un canto Giardel Franchesi non arriva E' troppo lento Ma di giorni che sia La devia Credo la devia Con la devia Teo Hernandez Passaggio Un po' troppo Belletario Fallo per il Milan Suzo è pronto a passarla Verso Teo Hernandez Franchesi Dietro vede Davide Calabria Davide Calabria Credo si vede Davide Calabria Non so Non li so i nomi ragazzi Piontek Quello lo so Piontek Non le fa vedere Non le fa vedere le pistole Piontek Almeida Feiza Ma Musacchio Attenzione Che si Raffa Silva Davide Calabria Attenzione Quasi come ti fa Allora Raul De Tomas Che si Nei pressi Musacchio Attenzione Parte Musacchio Il passaggio No Ragazzi ho rischiato Ragazzi ho rischiato Ho rischiato Un sacco E quasi il Benfica Ci fa gol Credo sia Raul De Tomas Cosa faccio Davide Calabria Fa passaggio del cacchio Daniele Maldini Attenzione Partita Daniele Maldini Maldini Sì Recursione sulla fascia Di Daniele Maldini Attenzione La passa Franchesi Che bene Christophe Piontek Era un passaggio Per Benasser Benasser Ferro Richard La passa Franchesi Di pressi Grimaud Raffa Silva Credo che questa partita Finirà così Ma non è ancora Detta l'ultima parola È un minuto di recupero Non credo che faccia Un gol Un minuto Un minuto Infatti finisce qui ragazzi La partita tra Benfica E Milan Spero che il video vi sia piaciuto Comunque abbiamo giocato meglio noi Si vedeva Comunque 0-0 Hanno pareggiato anche Zenit e Olympiacos Questa è una cosa buona Non siamo ancora Primi classi Spero che il video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Oggi ci vediamo E il video che farò Credo dopo Di Milan Olimpiadas Noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi